Sì, grazie Presidente. Interveniamo per esprimere il nostro parere favorevole a questo atto, in particolare sull'aspetto, sebbene ci siano comunque degli elementi di criticità, non piena condivisione nell'atto, in particolare sull'aspetto proprio dell'introduzione di questo principio in base al quale in assenza dello Stato intervengono le aziende private, in questo caso sotto forma di aziende assicurative, anche se pubblico o private, è un principio del tutto discutibile. Spero che non ci siano delle ridondanze in questi soggetti che veritamente verranno promossi, in particolare non vorrei mai che in alcune compagini di societarie, di banche, note per famosi scandali, compaiono poi le solite gruppi assicurativi che guarda caso verranno promossi dalla Giunta o dal Consiglio, insomma noi vi gireremo soprattutto in questo senso, anche se purtroppo assistiamo quotidianamente al fatto che la partitocrazia ha messo mani ovunque come un polpo che ha i tentacoli da tutte le parti. L'importante è infatti molto interessante per la discussione successiva sulla PDD 79, dove esprimeremo un voto favorevole con riserve, ma dopo entriamo nel merito, è non confondere mai le cause con gli effetti. Noi oggi siamo chiamati a ricalibrare anche tutta la nostra azione politica per fare in modo che la stessa pianificazione e la destinazione delle risorse vada prevalentemente ad agire per evitare che si creano quei fenomeni che poi danno luogo al dover rimborsare anche economicamente soggetti o imprese. Noi oggi siamo chiamati a fare tutte quelle politiche che risolvono il problema delle cause che creano i problemi. In questo senso una buona pianificazione, un buon piano delle alluvioni, un'adeguazione alla normativa europea può sicuramente aiutare questo. Di fatto poi chi governa è chiamato a rispondere a esigenze anche del quotidiano e dalle risposte concrete e quindi anche in questa nuova razionalizzazione del cosiddetto mutuato quadro economico-finanziario, anche se noi riteniamo che i soldi ci sono, ma sono spesi con priorità diverse da quanto pensa il Movimento 5 Stelle. Ripeto, per i caccia 35 si trovano sempre i soldi, ma per il reddito di cittadinanza o i soldi per la messa in sicurezza del territorio non si trovano mai, o ancora di più per le scuole. Riteniamo comunque condivisibile quest'atto e in particolare, ripeto, all'istituzione di questo tavolo tecnico-politico della Giunta Consiglio per rivedere tutto il quadro normativo in merito alla protezione civile.